R1. Il G7 Agricoltura è in corso a Siracusa. Nella prima sessione dei lavori i sette ministri delle principali economie del pianeta parlano di giovani. La nostra inviata. Non è un lavoro per giovani quello nei campi. Il numero di ragazzi che entrano nel settore agricolo è in costante calo e l'età media è superiore ai 55 anni. Con questi dati il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida ha dato il via ai lavori del G7. Ma sul tavolo ci sono anche i temi della cooperazione, redditività e non solo. Cristiano Fini, presidente Confederazione Italiana Agricoltori. Un unico obiettivo è sicurezza alimentare. Oggi stiamo sbagliando. Ci sono delle difficoltà dovute soprattutto all'emergenza climatica. Tutte le produzioni sono in calo. Se gli agricoltori non hanno una resa produttiva, non hanno un reddito, chiude l'azienda e diventa un problema per tutti. Oltre ai cambiamenti climatici, l'allarme che gli agricoltori lanciano ai ministri del G7 e anche sulle conseguenze economiche delle attuali tensioni geopolitiche mondiali ancora fini CIA. Ci possiamo aspettare dei rialzi di prezzi dovuti al consumo energetico e alla spesa energetica perché comunque le tensioni rendono instabile questo tipo di mercato. Ovviamente questo si riflette sui prezzi al consumatore finale. Da Siracusa con Danilo Ambra, Amalia Carosi, GR1.